Siamo in compagnia oggi a Roma, presso la sede del Vascello, sede del Grande Oriente d'Italia, con il gran maestro della massoneria, il dottor Stefano Visi, che da un anno e mezzo guida il Grande Oriente d'Italia. Noi come Super TV innanzitutto ringraziamo per l'ospitalità e per l'occasione che ci viene data per conoscere la massoneria sotto ogni punto di vista e quindi quello che noi vorremmo sapere, anche per i nostri ascoltatori, la storia in breve della massoneria a livello internazionale e quello che più interessa del Grande Oriente d'Italia. Il Grande Oriente d'Italia ha più di 200 anni, fa parte della storia italiana il Grande Oriente, perché i liberi muratori hanno partecipato al risorgimento, hanno partecipato alla guerra di liberazione, hanno partecipato alla ricostruzione della Repubblica Italiana. Infatti non è un caso che proprio in questo periodo il Grande Oriente d'Italia voglia tornare in possesso di una parte del palazzo, Palazzo Giustiniani, dove è a sede il Grande Oriente d'Italia dagli inizi del Novecento. Il fascismo ci sfrattò da quell'immobile, la Repubblica in parte ce l'ha riconsegnato, ma poi ce l'ha tolto di nuovo. Ora inizieremo una nuova vicenda, una nuova storia, perché noi in quel palazzo vogliamo tornarci con il Museo della Storia della Massoneria. Cosa importante è che parlando del Palazzo Giustiniani, perché chi non lo sapesse è anche la sede del Senato della Repubblica Italiana, che però chiaramente il palazzo era proprietà della massoneria italiana. Il palazzo Giustiniani è stato acquistato nel 1911 dal Grande Oriente d'Italia per un milione e cinquecento mila lire. Il gran maestro di allora si chiamava Ettore Ferrari, l'artista che ha realizzato il monumento a Giordano Bruno in campo dei fiori. Poi in quel palazzo, anche per questo che ci siamo molto legati, è stato ucciso da un folle nel 1917 Achille Ballori, che era gran maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia e sovrano del rito scozzese antico ed accettato. E lì sono stati iniziati decine e decine e decine di fratelli libero muratori. Noi vogliamo quindi, in una porzione di quel palazzo, farvi il museo storico della massoneria italiana. Una cosa sicuramente molto interessante, anche perché permetterebbe agli italiani di conoscere la realtà della massoneria e non semplicemente le varie dicerie che ci sono a livello di immagini, magari quando le parlano nei giornali, che si mostra la massoneria come se fosse un'associazione strana. Mentre invece voi, proprio anche oggi, dimostrate che la massoneria è aperta, i vostri palazzi sono aperti, anche i cittadini, la vostra biblioteca e quant'altro, proprio per conoscere la vostra realtà. Purtroppo il pregiudizio è duro a morire. Si è visto anche nei giorni scorsi, quando durante il dibattito sulla riforma parlamentare, di fronte ad un parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha detto alla ministra Boschi che questa riforma era frutto di un complotto massonico, la ministra Boschi, a voce bassa per fortuna, ma l'abbiamo sentita, ha detto massone, dillo a tua sorella. Una espressione sessista, oltre che dispregiativa, che dimostra come ancora ci sia molto pregiudizio nei confronti della massoneria italiana. Al di là della Boschi, io penso che la massoneria oggi sia presente in tutti gli organi dello Stato in modo abbastanza costante. Io stesso, come sottosegretario del governo Prodi, ho avuto l'occasione di partecipare alla vostra adunanza a Rimini e portai il saluto del governo e mi ricordo che poi avvisai anche l'onorevole Prodi, il quale mi mandò una lettera di ringraziamento. Quindi penso che la massoneria, perlomeno il Grand Oriente d'Italia, abbia a pieno titolo il riconoscimento dello Stato italiano. Fatto bene a dire la massoneria del Grand Oriente d'Italia, perché purtroppo è facile oggi fare di tutta un erba un fascio, non abbiamo un marchio registrato. Noi siamo il Grand Oriente d'Italia, è la comunione massonica più numerosa, storica. Siamo proprio in questi giorni, abbiamo raggiunto un traguardo storico, 22.764 fratelli divisi in 884 logge sparse su tutto il territorio nazionale. Manchiamo nella provincia di Matera, ma presto, tra gennaio e febbrario, copriremo anche questa deficienza. Ecco, questa è la realtà italiana, ma però anche a livello internazionale ormai il Grand Oriente d'Italia penso che sia veramente, abbia sprofanato in ogni paese, penso in modo particolare anche nelle repubbliche sovietiche. Il Grand Oriente d'Italia ha rapporti di reciproco riconoscimento con obbedienze massoniche estere, con le obbedienze dell'est europeo. noi intratteniamo rapporti di reciproco riconoscimento, di fratellanza. In fondo la nostra è una fratellanza universale. I liberi muratori sono presenti in tutto il mondo libero, in tutto il mondo libero. Ma oltretutto io penso che sia importante anche far sapere ai cittadini nostri, qui ascoltando queste nostre poche parole, i vostri rapporti con il Vaticano. I nostri rapporti con il Vaticano, certo pesano eredità storiche, perché la scomunica del 1738, poi modificata in fondo oggi non si parla più di scomunica, ma di accesso alla comunione vietato per i massoni. Ma soprattutto pesa l'eredità in Italia del 20 settembre 1870, quando con la broeccia di Portapia finì il potere temporale dei papi. Ma in fondo anche un papa, Paolo VI, papa Montini, disse che quella data, quel 20 settembre 1870, era una data della provvidenza, perché lasciava alla Chiesa il potere spirituale, gli toglieva il potere temporale che non gli si addice. Non ce la vedo la Chiesa a parlare di piani regolatori delle città. Però ancora forse nelle gerarchie ecclesiastiche, in parte almeno, c'è una certa antipatia, direi, verso i massoni. Da parte nostra no. Ci sono però molti sacerdoti che guardano con attenzione. Sì, questo l'abbiamo visto anche alle vostre adunanze a Rimini, dove erano presenti anche dei preti della Chiesa Cattolica e anche di altre confessioni. Ragion per cui da parte vostra non c'è proprio nessun problema nei confronti della religione. Nessuna. Noi non scomunichiamo nessuno. Noi chiediamo a coloro che desiderano entrare nel Grandi Oriente d'Italia di dichiarare la credenza in un essere supremo. Basta non essere atei, ma si può far parte poi della libera muratoria. Quindi ecco, io penso che oggi abbiamo avuto il quadro della situazione vostra. Non le chiederò quanti papi erano affiliati alla massoneria, anche se voci ricorrenti sono quelle di Giovanni XXIII e di Paolo VI. Io credo ai fatti e poco, anzi per nulla, alle leggende metropolitane. Non ho documenti che attestino l'appartenenza di Paolo VI e di Giovanni XXIII alla libera muratoria del Grandi Oriente d'Italia. Io credo che non vi facessero parte. Se porteranno, chi lo dice, i documenti che attestano, il contrario, li crederò. Ma fino a quando... Chiaramente questi due papi però avevano fatto una certa apertura nei posti confronti. Ma avevano fatto un'apertura, avevano dialogato, non facevano le scomuniche. E Giovanni XXIII ha detto una grande e bella frase nel corso del suo pontificato. La disse al senatore Amintore Fanfani. Mentre andavano a Loreto, in treno, il senatore Amintore Fanfani con Papa Giovanni XXIII che voleva chiedere una benedizione per il centro-sinistra che stava per nascere. Giovanni XXIII, che non dava molto ascolto a queste richieste del senatore Fanfani, disse allo stesso senatore Vede quelle due persone che stanno venendo verso di noi. Non si chieda da dove vengano, ma dove vogliono andare. Importante è ciò che unisce. Giovanni XXIII era un papa che cercava di unire, che cercava il dialogo, che aveva anche degli amici massoni. Però da qui a dire che era un massone, ce ne corre. Così come la stessa cosa vale per Paolo VI. Durante il suo pontificato ci furono degli incontri tra rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche e massoni, vertici della massoneria del Grande Oriente d'Italia. Poi purtroppo con la morte di Paolo VI alcuni elementi di novità e questo dialogo è venuto un po' a cadere. Anche se qua e là in giro per l'Italia si fanno incontri pubblici a cui partecipano sacerdoti della Chiesa Cattolica. Certo. Noi oggi siamo qui appunto nella sede del Vacello che chiaramente voi siete anche disponibili a aprire agli studiosi la vostra biblioteca per far conoscere nei dettagli la massoneria. Molti studiosi non massoni desiderano conoscere la storia del Grande Oriente d'Italia, la storia dei personaggi che hanno fatto l'Italia. Quando chiedono l'accesso ai nostri documenti sono ben accolti, danno tutta la nostra apertura proprio per far vedere davvero chi siamo. La sede è aperta in ogni caso, ogni anno noi per le celebrazioni del 20 settembre facciamo iniziative pubbliche dove vengono personaggi della cultura, della scienza, della politica e i cittadini che desiderano conoscerci un po' meglio. Perfetto, io penso anche a nome della redazione dei Super TV di doverla ringraziare per l'accoglienza che ci ha voluto gentilmente dare oggi e con la speranza che nel futuro proprio attraverso la sua figura di poter conoscere meglio le iniziative e la massoneria in generale. Dipende da voi, se volete la massoneria come dico spesso con uno slogan è il contrario della DS se la conosci non la eviti. Grazie. Grazie a tutti.